Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat e oggi sono qua sul nuovo orto, diciamo sul pezzo di terreno nuovo, guardate qui guardate qua com'è, vedete, sto iniziando a fare un po' di pulizia prima dell'inverno proprio per andare poi a ripreparare le nuove aree per seminare una cultura da sovescio quindi semineremo un mixcuglio di sovesci, faremo ovviamente tutto questo appezzamento qui da lì, che adesso lì andrà tagliato col legge spugliatore, andrà pulito tutti i sostegni dei pomodori andremo a fare da là in fondo fino a in fondo lì, dove vedete il trattore là, dove finisce il mais andremo a fare tutto sovescio, quindi semineremo culture da arricchimento del terreno e culture da ovviamente migliorare il terreno invece su questa zona di qua, qui ci sono i carciofi che ovviamente hanno subito tanto secco e li ho piantati in primavera sbagliando, dovevo piantare in autunno, però vabbè adesso cosa farò qui? Dato che ho il decespugliatore anche qui, andrò a dare un decespugliatore intorno quindi a pulirlo un pochettino da questa erba qui ci sono i broccoli della primavera che sono belli e andremo a decespugliare qua in mezzo un po' delle crescite di erba ma tanto dopo l'erba si ferma in primavera e tutto il bordo dell'orto qui è stato trinciato, vedete e poi qui vedete tutto l'argine qua i vari pezzi che sono stati fatti col trattore verranno fatti col decespugliatore e ovviamente devo anche curare un po' come si dice le siepi, andare un pochettino a tagliare le siepi quindi tipo questo cespuglio qui verrà tagliato perché sta crescendo troppo quindi verrà tagliato bene e poi passerò col trattore a trinciare tanto l'erba qui non ce ne facciamo niente che poi arriva comunque l'inverno quindi l'erba non serve più a niente e quindi va bene trinciamo qui ho preparato, ho trinciato questa zona qui là c'era la siepe, l'ho tutta quanta livellata col tagliassiepi e poi qua ci ho trinciato questo posto qui che è un po' una buca, un po' un avaldamento vedrò se, come stavo dicendo, se in questo momento qui intanto far portare delle tame per poi concimare e intanto lo scaricherai qua e se no poi vedremo ecco perché comunque è una zona di un po' di buca e vabbè comunque l'ho trinciato il lavoro di trinciatura viene bene col trattore ovviamente mi impegna molto tempo perché adesso a dire la verità non è che ci mettiamo due minuti perché ovviamente abbiamo trinciato tutto intorno ho trinciato tutto quanto qua c'era il mais, c'erano le altre coltivazioni che poi è cresciuta tanta erbe quindi abbiamo pulito poi ovviamente il trince va molto bene anche se ho visto che ha un piccolo problemino che poi ovviamente adesso finirò il lavoro qui perché poi domani mettono pioggia e quindi purtroppo è però vedete ha un piccolo perdito di olio un parolio del cuscinetto penso che sia non me ne intendo cioè non è che sono proprio così sicuro però penso che sia quello me lo fa solo quando va sotto sforzo proprio quando c'è tanto materiale da trinciare mi perde l'olio però bisognerà sistemarlo ma adesso andiamo verso l'inverno che comunque sarà un periodo che mai starà fermo allora vedremo di sistemarlo o di portarlo a sistemare o di farlo sistemare spero che mi riusciate a sentire bene che qua c'è stanno ovviamente lavorando qua vicino e si sente il rumore qui vedete ho fatto questa trinciatura qui proprio per andare vedete a delimitare tutto dove c'è l'orto a fare un po' di pulizia vedete proprio fare un po' di pulizia le siepi sono state tutte quante belle tagliate come stavo dicendo prima questa è aria dove buttiamo roba da decomporre vabbè andando avanti per di qua vediamo adesso andando avanti per di qua così ho trinciato tutto quanto vedete qua c'è qualche qui ci sono un po' di tubi e di cose che dovrò sistemare ovviamente le sistemerò poi qua taglierò tutto con il disespugliatore qui vedete è stato trinciato bene poi se c'è qualche residuo vedete di qualche pezzo di legno che magari era secco era duro tipo questi pezzi di legno qui poi con il rastrello li portiamo via vedete è stata fatta tutta quanta una bella pulizia qui vedete proprio a livello fatto bene vedete per esempio qui è stata tagliata qui l'entrata qui è stata trinciata tutto quanto molto semplicemente ecco anche con anche vedete qua ci sono ancora pezzi di rami però cosa volete fare i rami bisogna vedere un trince di quelli super forti però è anche legno molto grossa molto dura più che grosse e legna dura vedete poi si passa così vedete si tira su e poi si fa un piccolo posto vedete sto mettendo qui un po' di rami e varie cose ecco comunque quello che ci interessa a noi è pulire l'aria per andare a fare per andare a seminare il sovescio vedete qui l'entrata dell'orto vedete che si vede così questa è l'entrata qui la strada qui l'ho trinciata vedete per esempio in strada qui l'ho stato trinciato poi vediamo se trincerò ancora avanti quell'erba tanto non ci serve più adesso l'erba e niente ecco questo è un po' il tutto vedete che stiamo facendo ovviamente ovviamente il lavoro più principale e che mi importa di più è trinciare l'interno dell'orto per poi seminare quello fuori qua l'ho fatto dato che ho il trattore qua lo faccio se no l'avrei tagliato anche con il cespugliatore ma dato che ho il trattore qui a disposizione lo faccio qui sono rimaste delle zucchine andrà trinciata anche qua adesso quando finisco di trinciare la poi vengo avanti da lì in fondo così trincerò questa zona qui perché trincerò qui perché qui non seminerò il sovescio ma qui seminerò farò tre quattro file di piselli penso di farle fine 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 sì insomma qua fine ottobre sì penso fine ottobre qui ci sono anche le campane vabbè fine ottobre seminerò i piselli e poi metterò giù anche l'aglio qui vedete qui ci sono i broccoli andando avanti qua così con i broccoli farò una piccola preparerò questa pezione di terreno qui e metterò giù dell'aglio ecco metterò giù dell'aglio che ho ecco quindi questo è il lavoro da fare adesso finisco tutto col trattore poi prendo il cespugliatore e pulisco questa zona qui qua e pulisco tutto dove non sono riuscito a fare col trattore e finisco con il cespugliatore per andare comunque a dare una pulita più superficiale qui c'erano i pomodori che abbiamo raccolto poi c'è cresciuto anche i rampicanti qua vedete qua i rampicanti comunque crescono sempre dappertutto e danno una noia grandissima però comunque i rampicanti quindi con volvolo e altre erbacce però comunque adesso i pomodori non mai sono finiti e quindi poi con il cespugliatore andremo a pulire qui andremo a tagliare e rompere l'erba e lasciarlo lì in pace poi le erbe comunque moriranno si seccheranno diciamo poi arriverà l'inverno i pomodori qui li hanno raccolti niente di che in estate ha fatto parecchi pomodori pomodorini gialli zebrati e tutto quanto molto molto buoni e quindi questo è il quanto vedete questo qua c'è ancora qualche rama poi possono anche stare la comunque a marcire ecco non c'è problema vedete comunque le seppi qua sono seppi semi un po' lasciate andare io le tengo solo un po' contenute tagliate ecco questo è il quanto ovviamente ho un cespugliatore qua vedete un cespugliatore per finire vi faccio vedere che ho un po' di attrezzatura ma proprio base base quindi ho un tagliasepa batteria così ed è ovviamente della steel però vabbè vedete quella batteria sua e tutto quanto per tagliare le seppi va molto bene questo qui è anche molto comodo e maneggevole così dovete fare un po' di cespugli e poi ho il solito mio dei cespugliatore che vedete un po' che avete visto e che è l'FS 120R che secondo me è un'ottima macchina perché è leggera e allo stesso tempo diciamo potenza media quindi una potenza buona per fare tutti questi lavori qua dell'erba magari anche se vi capita di mettere una lama per fare un po' di rovi russe rovi spinari e spine tutto quello che c'è insomma non vi deluderà mai ecco comunque è un cespugliatore che va bene il trince va bene tranne quella piccola perdita di olio che ha che però comunque poi si sistema ecco perché adesso devo finire qua di trinciare qua poi devo andare a trinciare vedete poi devo andare a trinciare un pezzettino di di erba vedete là in fondo vedete che c'è quella muraglia la di rovi non è affar mio quella roba lì io dovrò solamente tagliare prima i cespugli quindi fargli la potatura e poi dopo di che macinare i rami ecco e anche quella zona lì vedete quella zona lì che c'è un po' di cespugli cercare un po' di contenerli ecco perché sennò crescono tantissimo poi non si riesce più a passare più a fare niente perché di là vedete quel pezzettino andando di là così adesso non so se siete a vedere c'è un altro pezzettino di erba ecco quindi bisogna cercare di tenere la pulita all'entrata ecco quindi gli stocchi del mais qua li maciniamo maciniamo tutto facciamo tutta pulizia e poi ci prepareremo quando ovviamente finirà di piovere che mettono che mettono la pioggia qui che mettono questi giorni qua di pioggia ovviamente poi quando finirà di piovere poi andremo a comunque andremo a fare la nostra fresatura per poi piantare e seminare il sovescio ecco niente da Polo Fiato è tutto io vi saluto niente buoni lavori anche a voi nelle vostre campagne lavori autunnali che poi ci prepareranno per l'inverno e niente ecco sfruttiamo questi giorni di bel tempo per lavorare e fare i nostri lavori poi quando piovere ci riposeremo niente da Polo Fiato è tutto alla prossima Alla via! Alla via! Alla via!